A Tarato per continuare la serie utile, il chiave è terzo posto, sarà un bruttissimo pomeriggio in realtà per i biancazzurri. Pizzari infortunato, Brosco e Milani sconificati, tre pali sommariva, non ha presenza in campionato, sesta da titolare, Crescenzi sulla fascia sinistra, novità sostanziale, rientro dopo sette mesi dal grave infortunio al ginocchio di Filippo Pellacaglio, centrocampo in attacco, tutto confermato davanti naturalmente il tridente Merola, Lescano, Colail, Pescara di fatto concluderà verso lo specchio della porta avversario in un paio di occasioni, ma insomma non ha fatto del male all'estremo difensore del Taranto, Vannucchi praticamente lo ha poco sollicitato, il reparto offensivo biancazzurro per contro, il 3-5-2 disegnato da Ezzolino Capuano, Rossetti squalificato, Outlex, Crecco di Abbie e Manetta in cabina di regia, Provenzano, interni Labriola e Mazza, in attacco il tandem Tommasini-Bifulco, Bifulco che sarà grande protagonista di questa partita, autore di una doppietta, eccola qui l'azione del primo gol, esce Mesic, si fa tagliare fuori i Crescenzi, lo scambio tra Bifulco e Mastro Monaco, palla in mezzo, malinteso, clamoroso, tra Cancellotti e Sommariva, segue l'azione Boccadamo, classe 99, il gol facile facile di Tommasini, classe 1998 in prestito del Pisa e questo è l'ottavo centro in campionato per il numero 81 del Taranto, sono passati soltanto due minuti, scarsi tre, il Taranto ha sbloccato il punteggio, però insomma abbiamo visto tutto quello che è successo in questa transizione che è stata perfetta da parte dei giocatori di casa, sembra Mastro Monaco, sembra Dani Alves, abbiamo scherzato prima, ma sembrava proprio così, poi il grave, diciamo così, c'è stato un qui pro quo tra i due giocatori del Pescara, vale a dire Sommariva e il suo compagno di squadra Cancellotti, poi il pallone in mezzo di Boccadamo per il suo compagno di squadra Tommasini che tutto solo ha spinto il pallone, in fondo al sacco, dopo due minuti e mezzo il Taranto ha sbloccato il punteggio e dunque tutto da rifare per il Pescara, ma c'è ancora una vita per rimediare e vincere questa gara, ma dopo soltanto otto minuti muove benissimo il pallone della bandierina il Taranto, il castello difensivo del Pescara in frantumi, si marca zona e dunque palla di Labriola per Provenzano, il suo cross perfetto, il colpo di testa di Bifulco lasciato colpevolmente solo all'altezza dell'area piccola, il primo gol in campionato per l'ex attaccante del Padoa, 26 anni compiuti, grande protagonista qualche anno fa, 5 anni fa con la maglia della Provercelli proprio contro il Pescara, quella Provercelli allenata da Grassadonia, vinse in Serie B 3 a 1 sul Pescara di Pillon, la prima sconfitta di Pillon in quel campionato, 2017-2018, da poco subentrato Pillon a Massimo Epifani, ebbene Bifulco fu il grande protagonista, i gol di Vives e doppietta di Rajcevic, Rajcevic che fuori causa per un infortunio proprio nel Taranto, dunque compagno di squadra di Bifulco che tutto solo colpisce il pallone di testa, ma bravi a muovere in un certo modo il pallone i giocatori del Taranto dalla bandierina, molta disattenzione c'è da dire da parte del reparto arretrato, dopo 10 minuti 2 a 0, quindi partita che sembra davvero compromessa, continua ad attaccare la Taranto con questi lanci lunghi, approfittando degli sbilanciamenti della squadra biancazzurra, ancora Bifulco che chiama in causa il portiere Sommariva dopo aver evitato Pellacani, Pellacani oggi rientra dopo 7 mesi, insomma si vedeva che ha fatto molta fatica l'ex Virtus Verona, siamo nel secondo tempo, Delle Mona che ha preso il posto di Colai e costringe al fallo da ultimo uomo, chiara occasione da gol, proprio Mastro Monaco con il Taranto, dunque in 10 uomini dopo 8 minuti dall'inizio della ripresa, insomma questa è una buona notizia per il Pescara, però passeranno 3 minuti, il Taranto addirittura se dirà il terzo gol, rivediamo questo abbraccio tra virgolette, di Mastro Monaco a Delle Mona che aveva preso il posto di Colai, chiara occasione da gol, l'arbitro della contesa, il signor, il direttore di gara appunto estrae il cartellino rosso e non ci sono dubbi, non protesta neanche Mastro Monaco che aveva giocato un grande primo tempo e quindi il Taranto in 10 uomini, parte questo cross dalla bandierina ma anche il contropiede del Taranto col Pescara tutto sbilanciato, vediamo Tommasini uno contro uno con Crescenze che aveva già subito l'ammunizione nel primo tempo, naturalmente non rischia il fallo, c'è la conclusione di Tommasini, Sommariva respinge sui piedi proprio di Bifulco che ha avuto il merito di seguire tutta l'azione e segna a porta vuota il classe 1997, il 3 a 0 al minuto 56, dunque si chiude qui la partita anche se c'è ancora tempo però insomma il Pescara non ha idee in questa gara, non ha neanche avuto l'approccio giusto dal punto di vista mentale dell'atteggiamento, insomma un Pescara non pervenuto 56esimo minuto nel corso di questa partita, il 3 a 0 del Taranto con la doppietta di Bifulco Alfredo Bifulco cresciuto nel vivaio del Napoli, classe 1997, ha giocato in Serie B non solo nella Provencelli ma anche nella Juve Stabia e nel Carpi, stagione 2016-2017 con Castori in panchina minuto 78, il Pescara prova ancora a reagire, sono entrati nel frattempo al primo minuto della ripresa anche Giabo ha entrato lo stesso cupone, il colpo di testa centrale di Lescano fa buona guardia Vannucchi il portiere, il servo difensore del Taranto, ancora Capuano che naturalmente incita il pubblico oggi si è rivisto un po' più di pubblico rispetto al solito allo Iacovone di Taranto insomma questa è anche e soprattutto la vittoria di Eziolino Capuano che affrontava per la prima volta un mostro della panchina come appunto Zdenek Zeman quinto minuto di recupero, finisce proprio qui il match, il Taranto archivia il discorso salvezza per il Pescara un passo indietro ma soprattutto una grande delusione dopo la grande prestazione contro la Virtus Francaville, Pescara che deve lottare per blindare il terzo posto Taranto batte Pescara 3-0, Taranto che ha vinto 2-0 l'andata, 3-0 al ritorno, 5 gol fatti, 0 subiti una grande prestazione, profonda delusione invece per l'undici di Zdenek Zeman Grazie 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 Grazie